La mezzia terme, mamma e figlio muoiono travolti dall'acqua di un torrente, si cerca l'altro bimbo, emergenza, maltempo in tutta la Calabria, in parte del sud, crolla un ponte. Nuovo def alle camere, il governo scommette su crescita più forte del previsto, Salvini e Di Maio manterremo le promesse, tornano a criticare l'Europa, opposizioni, si rischia il barato. Nobel per la pace 2018 al ginecologo congolese Denis Mukwege e all'attivista Yazida Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. Istanbul, blitz della polizia in un centro culturale, dieci arresti, fermato anche un italiano Gianfranco Castellotti in Turchia per osservare un processo, manca l'accusa. Si moltiplicano i costi supplementari per chi viaggia in aereo, dalla scelta del posto ai bagagli, 85 miliardi in più di un anno in tutto il mondo, al Tg3 il parere di un esperto. Buongiorno e benvenuti alla Tg3. In apertura il maltempo che ha colpito il sud Italia, in particolare la Calabria. La situazione è più importante.